oh 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 not ma che cos'è questa? con questo albero strano e cos'è questo deserto rosso e giallo vabbè quello giallo in realtà è normale e invece che cos'è che c'è qua un villaggio strano e qua ci sono degli alberi strani che non abbiamo mai visto su minecraft praticamente oggi ragazzi siamo in una mod stranissima di minecraft per quelli che non conoscono tipo la biomoplantis è simile alla biomoplantis però non si chiama così mi sono già scordato il nome si chiama on the bio you'll go o una roba di questo tipo vedete E là c'è un villaggio con i blocchi rossi del deserto E praticamente questa mod Anche la Biomoplantis Ti fornisce tipo nuovi biomi Nuove tipo Nuovi posti da esplorare No praticamente sarebbero i biomi E invece se Adesso tagliamo Proviamo a tagliare questo albero Questo albero per esempio Un palo verde log Non so che cosa sia esattamente Però ti dà i birch wood Che sarebbero quelli normali Vabbè insomma Questa era una cosa irrilevante Comunque andiamo ad esplorare questo villaggio Che è molto strano E chissà quali altri segreti si nascondono Perché poi qua ragazzi Non è che c'è solo questo deserto Ci sono un sacco di roba Ovviamente non riusciremo ad esplorare Tutti i biomi Infatti vi chiedo se volete Nel caso Magari potrei Portare avanti una mini serie Per esplorare tipo tutti i biomi Nel caso vogliate Una mini serie di sopravvivenza Dentro questo bellissimo mondo Chi lo sa potrebbe anche starci Questo letto lo prendiamo Perché nel caso la notte E io prenderei anche questa torcia Scusate signori villager Vi prendo un po' Vi rubate Ma scusate anche voi su minecraft Rubate tutti ai poveri villager Cioè nel senso Secondo me un pochetto Dico un pochetto Se lo potrebbero meritare Questa cosa qua Perché Insomma Ma che schifo La carne macchia Mi permetti No allora si meritano La distruzione totale Cioè Ragazzi seriamente Oh ho premuto per sbaglio Un coso strano Adesso prendo questo Questo Perché così almeno Prendiamo tutti i piani buoni E siamo felici Ok Cerchiamo di esplorare meglio Questo villaggio però Non è che abbia molto Vediamo Forse qua sopra c'è qualcos'altro Vabbè altri smeraldi Diciamo che non è che ci siano Molte cose diverse Da Diciamo dai Villaggi normali Però ecco Già lì davanti Troveremo Stiamo trovando Stiamo vedendo Un bioma più nuovo Volete vedere qual è? Eh? Lo so che lo volete vedere Eh però Mentre mi state ascoltando Mentre mi state guardando Mentre state vedendo la sabbia rossa Mentre state vedendo quegli alberi Eh vi rendete sempre più conto Che siamo dentro Un gruppo bellissimo E vi rendete sempre più conto Che questo gruppo È talmente bello Che secondo me Vale la pena Starci per sempre Per sempre Vabbè insomma Per quanto Fin quando non vi annoiate Però secondo me Questo è un gruppo bellissimo Siamo come una grandissima Famiglia Per così dire È un po' strano dire questa cosa Però Una famiglia dove ci si diverte molto In realtà Dove ridiamo un sacco Dove ci Dove siamo anche un po' strani A volte Oh guardate qua E beh come si fa fra amici No esatto Un gruppo grande di amici Siamo Eh ci sta Mi piace questa cosa Anche perché poi Dovete sapere che il mio tag È RFP Che sarebbe Real Friends Play Cioè praticamente Amici reali Che giocano Se vi state chiedendo Perché ho messo questo tag È perché È bello Secondo me No Cioè Rispecchia tutto ciò Che vorrei io mettere Però adesso Cerchiamo di esplorare Questa struttura Che io Ho visto qua in cielo E che anche voi avete visto Qua in cielo E che mi starete chiedendo Che caspita sia No ok Sono delle case normali Che però si sono costruite In modo strano Ok Vabbè Facciamo un po' di parkour È strano E magari c'è Aerobrine Detto questo No speriamo di no Comunque a proposito Di Aerobrine Vi dico che Potrebbe 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 forse Iniziare una nuova serie Io ve la sto buttando lì E poi non lo so Scrivetemi se volete Una nuova serie di Aerobrine Nei commenti Perché Secondo me Quella serie ci sta molto Mi sta La stiamo preparando io Insieme ad altre Ad altre mie amici È molto bella Molto bella Molto bella Che bello Fare le serie Però guardate Quanto è bella Anche questa Questa cosa qua Tipo Qua questo È un legno Di Ironwood Scusa Non mi dire Allora sarebbe Tipo Il legno Però tipo Di ferro Io ora Non so che cosa Voglio dire Questa cosa Ci sono tante cose Da scoprire In questa moda Ragazzi Dobbiamo esplorare Dobbiamo esplorare Tantissimo Per capire Guardate Poi qua Che figata Ragazzi Porca miseria No Ma guardate C'è vedere Minecraft così bello Vi giuro Mi sta facendo venire le lacrime Perché è bellissimo Ci vi immaginate Tipo Se facessero Minecraft davvero così bello No Bellissimo Bellissimo Cioè Topissimo Poi guardate anche qua Io andrei avanti per ore Ragazzi Restiamo Restiamo tutti insieme Uniti Hashtag Stiamo uniti Aspetta sto dice No però È bello Scrivete hashtag Stiamo uniti nei commenti Perché noi siamo uniti Siamo un bellissimo gruppo Uniti Di amici Tutti noi siamo amici Bellissimi Anch'io Sono vostro amico E vediamo un attimo Questi alberi qua davanti Perché sono alberi grossi E poi chissà quali misteri Si possono nascondere Dentro questi biomi strani Potrebbero esserci Qualsiasi misteri strani Qualsiasi segreto Tipo sotto questi alberi Cos'è che c'è? Tipo un Un pappagallo? Non lo so Potrebbe Un pappagallo Magari no Però tipo Eh qua ci sono le pecore Adesso io ucciderei le pecore Sapete perché? Perché le pecore mi forniscono il cibo Sì però forniscono anche Tanto tanto disturbo Tanto 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 disturbo Ma troppo disturbo E sapete cosa Mi fornisce anche questa cosa? Se magari non mi strozzo È meglio Mannaggiamme Mannaggiamme Adesso proviamo Adesso Guardate ragazzi Sta per arrivare la notte Quindi adesso proveremo a dormire Non so perché Ma mi stavo completamente Impicciando con le parole Probabilmente Ho avuto qualche Strana malattia Per la parlata Perché a volte ci sono le malattie parlate No? Tipo la malattia Eh però sono sciocchino Sapete perché sono sciocchino? Perché non ho messo questo Eh la luce dinamica Che è importantissima È un paio di video importantissima Perché io viaggio E voi vedete comunque Anche se tengo una torcia in mano È bellissima questa cosa Adesso però metto il letto Perché Se no non dormiamo ragazzi Se no non dormiamo Non va bene Non va bene Ok Adesso dormo Ah buonanotte a tutti Ok bene Adesso mi posso svegliare Posso di nuovo andare Ad esplorare Che bello Che bello esplorare Vediamo però quali segreti No perché scusate Cioè nel senso Adesso vorrei trovare davvero Qualcosa interessante Perché nel senso Ok Eh beh Sono bellissimi tutti questi biomi È vero Oh porca Ok Fermi un attimo Cerchiamo di capire Cosa è appena successo Stavo per morire Perché il creeper Mi stava ammazzando Mi stava esplodendo addosso Poi Le cose qua Stanno laggando Non capisco il perché Perché non siamo dentro Un server Potrebbe essere per la mod Molto probabilmente È per la mod Però comunque Questa cosa Mi stava facendo Leggermente impaurire No perché nel senso Se le cose laggano E se il creeper esplode Io qua ci muoio Ma non su minecraft Anche nella vita reale Perché mi viene Un infarto Per la paura Quindi Adesso Magari metto Una musichetta Caruccia Caruccia Però sapete che a me piace Cantare insieme Alla musichetta Cosa c'è di strano Allora Allora So che stai ridendo Non ridere Io ti sto vedendo Che stai ridendo Ma Cioè non ridere Ma sta ridendo Anche Io Socco basito Socco rosso Completamente sconvolto Devo capire però Come si funziona Sta roba Allora Scusate ragazzi Io adesso devo cercare Di capire perché Non sto capendo Tutto quanto Cioè non sto capendo Anche perché Non riesco a parlare Soprattutto è una cosa Importante questa Su youtube Perché sapete Parlare su youtube È la cosa primaria Perché se non sai Parlare su youtube Non vai molto avanti Anche perché Cioè nel senso Ovviamente Voi mi dovete capire Io devo capire Quello che dite voi Cioè nel senso Infatti Fatevi capire Nei commenti Se volete magari Se mi volete dire qualcosa Cercate di farvi Capire nei commenti Ok Adesso sono letteralmente A bocca aperta Ma che cavolo Di figata è ragazzi Cioè guardate qua Porca miseria Devo Devo vedere Ma questo è il bioma Di halloween Ma ci starebbe anche Tipo una serie Di halloween Tipo una serie Paurosa Con le zucche A tema halloween Tipo Però non Con l'halloween Vabbè chi lo sa Vabbè Però bellissimo Porca puzzarda Qua ci sono Tipo le zucche Che stanno Appese sugli alberi No ma che figata È questa Mi piace troppo Ma vi immaginate Se tipo la mettiamo Dentro una specie Di mondo E tipo ci facciamo Una sorta di sopravvivenza Secondo me Verrebbe una cosa Fighissima Non so cosa sia Sta roba Non voglio sapere Sinceramente Poi comunque Non stiamo andando In miniera Perché dobbiamo esplorare Cioè nel senso Non me ne fregava Assolutamente niente Di andare in miniera Anche se in realtà In miniera Ci potrebbero essere Certe cose Ora che ci sto pensando Ragazzi ci potrebbero essere Determinate cose Nuove Tipo Eh tipo I minerali Le colle Le boh Non so cosa ci potrebbe essere Miniera Tipo altre nuove miniere Tipo E se troviamo qualcosa Di questo tipo Dovremmo andarci Devo smetterla di dire La stessa parola Se no mi devo Sculacciare Ok È abbastanza imbarazzante Questa cosa che ho detto Vi chiedo scusa Vi chiedo Ah 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 Dai Rovino la mia reputazione Ma che stupidino Sciocchino Scosciuccio Mamma mia Mario Ci deve avere sciocco basito Bello bello Questo abbiamo molto bello Devo dire che Caspita È pieno di varietà Sapete cosa Adesso faccio così Slash game mode Creative E adesso Vado da questa parte Perché volevo vedere Se ci sono nuovi biomi Perché non voglio Stare a rompervi Le scatoline Quindi vorrei esplorare Velocemente Questa cosa qua E nel caso vogliate Faremo un altro episodio Tipo cercheremo Di sopravvivere Con queste Con questa mode qua E tipo cercheremo Di esplorare Eccetera Secondo me potrebbe venire Anche una cosa molto carina Una mini serie però Non una serie lunghissima Perché poi dopo Nella 1.18 Faremo La vanilla nuova Nella 1.18 Però perché La 1.17 Hanno rimandato Le caverne Che sono Non Insomma La 1.17 Non c'è praticamente Niente Nella 1.17 Quindi Mi sa che faremo Qualcosa Nella 1.18 Qua non si caricano Le cose Perché questa mod Mi sa che È tutta quanta Strana Vabbè E comunque Bellissima Bellissima Questo assolutamente Eh vabbè Ma che caspettare Sta roba Ma come si permettono Vabbè Comunque guardate Qua ci sono anche Un sacco di Item nuovi Tipo esatto Anche ho visto Delle armature Di smeraldo Robe verdi No di lit Robe stranissime Comunque Fatemi sapere Se volete vedere Una sorta di Miniserie E noi Ragazzi Ci vediamo Ovviamente Aspetta Prima Commentate Iscrivetevi Attivate la campanella Perché siamo nuovi Dovamo crescere Se no Cioè Se no Piango Semplice E quindi Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao